Ciao ciao, oggi la storiella è quella dello scoiattolo burlone. Uno scoiattolino di nome Chip che viveva in montagna era solito fare scherzi agli altri abitanti del bosco. Non c'era giorno che non venisse sgridato dalla sua mamma per uno scherzo che aveva fatto. A differenza degli altri fratellini non si dava da fare per procurarsi il cibo indispensabile anche da mettere via per il lungo inverno in cui la neve ricopriva tutto di un candido manto rendendo così difficile procurarsi da mangiare. Chip amava solo saltare da un albero all'altro buttando sulla testa degli altri animali del bosco tutto ciò che aveva portata di mano, ghiande, frutti, rametti, gusci di noci. Un altro dei suoi scherzi era far finta di perdersi nel bosco e rincasare nella tana sull'albero molto tardi con apprensione della mamma che fosse successo qualcosa. Chip era così, la sua giornata era costituita da volersi solo divertire. Una mattina, molto presto, come era solito fare, si allontanò dall'albero su cui viveva con la sua famiglia per girovagare tra i boschi saltando di qua e di là allegro come sempre. Ma mentre era su un ramo, posto su un grande albero pronto a saltare giù, questo si ruppe. Patatrac! In pochi secondi Chip atterrò su una grande pietra e si ruppe una zampetta. Che dolore! Il piccolo scoiattolo era abituato nei suoi continui movimenti a farsi male ma questo dolore era troppo forte per lui. Cominciò a chiamare la mamma ma era troppo lontana, non poteva sentirlo e lui non poteva muoversi. Che fare? Non poteva che attendere che lo trovassero. Arrivò notte e Chip aveva freddo, fame, sete ma nessuno poteva aiutarlo. Così, soffrendo, cominciò a pensare. Forse la mamma aveva ragione. Meglio essere previdenti e mettere via per l'inverno il cibo. È proprio brutto patire la fame e la sete. Se non ci fosse la mia famiglia io d'inverno non potrei mangiare non avendo procurato nulla. E mentre pensava e cercava di mettersi in piedi per raggiungere il nido ecco arrivare tutta la sua famiglia che lo aveva cercato per tutta la notte. Inutile descrivere la gioia di Chip nel vederli. Ma non tutto era andato male. Aveva così avuto il modo di capire che il suo comportamento era sbagliato. Dopo venti giorni di riposo per la gambina rotta fu pronto a seguire i fratelli nel cogliere ogni tipo di cibo adatto a loro. Nocciole, frutta, pigne, ghiande, noci, cortecce, castagne, pinoli, semi, uova. Diventò il più bravo di tutti. Ciao ciao, alla prossima!